Coincidenze ed aerei persi, sfumati il primo giorno di vacanza, l'appuntamento con lo specialista saltato, gli impegni di lavoro rimandati. Ennesima giornata nera sulla ferrovia per i valtellinesi diretti a Milano. Questa volta il treno partito da Sondrio alle 9.40, arrivo previsto nel capoluogo Lombardo alle 11.40, è stato fermato a Carnate. Due ore di stop per un guasto, questa la tardiva e minimale comunicazione ai viaggiatori verificatosi su un convoglio che precedeva. Ci hanno dato informazioni frammentarie, questa la lamentela più ricorrente fra i passeggeri, ma soprattutto non sono state fornite valide soluzioni alternative. Unica opzione, ma non per tutti, salire poco prima delle 14 su un treno diretto a Porta Garibaldi. Dall'alto parlante l'invito ad arrangiarsi con mezzi alternativi. Scene di sconforto e di rabbia fra i viaggiatori, per non dire dei forti disagi. Fra chi ha preso il taxi e chi ha aspettato un treno che tornasse in Valtellina, in molti sono rimasti in attesa. Fra loro un ragazzo disabile che è intenzionato a tentare la soluzione di Porta Garibaldi, si è visto impossibilitato a salire per la mancanza di una pedana. Alle porte del tecnologico e moderno capoluogo lombardo, il giovane è riuscito a partire solo grazie alle braccia dei suoi compagni di sventura che hanno insato la carrozzina sul vagone.